Questo purtroppo è il problema dei nostri tempi, la classe dirigente, l'equità, l'equilibrio. Questo è quello che manca ed è quello che noi dovremmo recuperare. Recuperare come? Togliendoci dalle distrazioni che ci occupano. La famosa costante attenzione parziale, frase di Alberto Contri, che adesso salutiamo fra poco, è vera, è una delle cose che io ogni tanto ricordo perché è un'osservazione molto acuta e soprattutto reale. Noi siamo costantemente impegnati in qualcosa che però è parziale, che non ci dà nulla. Ed è la strategia per distrarci. Ecco, noi dobbiamo fare uno sforzo, è come disintossicarsi, è come la persona che purtroppo è caduta nel vortice delle droghe, dell'alcol o del gioco d'azzardo, ad esempio, deve uscirne. E quindi dobbiamo disintossicarci. Le persone debbono disintossicarsi dalle distrazioni inutili che apparentemente portano una leggera gioia, ma gioia, come posso dire, un calo delle frustrazioni in quel momento però poi dopo le aumentano. Perché poi quando ti ritrovi senza il nulla in mano, zero cultura, zero fatti, zero piacere a lunga scadenza, cioè la vita, la vita normale, quindi lontana da queste distrazioni di massa che oggi sono state inserite, soprattutto con l'aiuto della tecnologia, dona un piacere a lunga scadenza, che non si ferma all'istante. È un po' come la droga. La droga cosa fa? Ti rende in quel momento più piacevolmente integrato nella vita, cioè ti dà un senso di forza, di piacere, ma poi dopo, alla fine dell'effetto, piombi in un disagio che è molto peggiore di quello che era prima dell'assunzione di queste sostanze. Quindi è un errore. Però poi dopo inizia la dipendenza, se non hai un'alternativa. Oggi i mezzi di comunicazione, cosiddetti social ed altro, ma anche i media legacy, come si dice, quelli tradizionali, che si sono convertiti al potere, questo fanno. Ti danno dei servizi che ti obbligano a stare sempre attento, ma che non ti danno nulla. Le liti che vediamo in tv sono liti costruite appositamente per generare contenuti che poi dopo dentro vengono riempiti da una parte di pubblicità, e quindi viene sottratta la vera informazione, e dall'altra anche da propaganda. Perché ricordiamoci che una grossa parte di quegli spot sono propaganda politica. O comunque anche all'interno degli spot pubblicitari c'è propaganda politica, tutta calcolata. questo però per identificarlo, per capirlo, per rendersene conto e quindi allontanarsi anche da quel modo di fare comunicazione, e devo dire anche da quegli spot ingannevoli, abbiamo bisogno di senso critico. Abbiamo bisogno di recuperare il nostro senso critico. Come? Allontanandoci, disintossicandoci, evitando di stare ore e ore dietro questa roba. Non so se avete notato, tutti i cosiddetti social network hanno inserito i famosi reel, gli short, i reel. Cosa sono? Sono dei brevissimi filmati, peraltro registrati in verticale, non in orizzontali, e quindi anche lì c'è un problema relativo anche alla concentrazione, ai nostri occhi. Noi, la natura ci ha dotato di due occhi messi uno a fianco all'altro. Quando noi guardiamo un'immagine reale, ma anche virtuale, ovvero una proiezione cinematografica, o anche una qualsiasi spettacolo, una qualsiasi cosa riprodotta su uno schermo, piccolo o grande che sia, se noi vediamo l'immagine in orizzontale, con il formato cinemascopo, 16 noni, con il formato orizzontale, che è quello più idoneo alla visione, noi ci rilassiamo, la nostra vista è occupata correttamente dall'immagine, e poi c'è una proporzione fra la distanza e la dimensione dell'immagine, che è quella corretta, che ci consente di apprezzare appieno quell'immagine, e quindi di vivere una situazione di comfort e di non stress. Queste non sono cose che dico io, sono scritte in qualsiasi volume di comunicazione, proprio, ma credo ai primi anni si studia, questo io non me lo ricordo, ma forse proprio ai primi anni, sono proprio quelle regole di base, qualsiasi regista sa di quello di cui sto parlando, ma anche qualsiasi montatore, qualsiasi persona che ha studiato la base, la visione orizzontale, verticale, scusate, cioè quella invertita, quindi per verticale, si è resa necessaria perché i cellulari sono fatti in quel modo, e vengono tenuti, impugnati in mano in questo modo, così in orizzontale, e quindi metterli e girarli a molte persone risulta scomodo, però e quindi si trova, ma facciamo i filmati così, tanto chi se ne frega, e quindi adesso ci sono questi filmati in verticale che comunque creano uno stress visivo e non rendono appieno, sei costretto ad un'inquadratura che rappresenta in quel verticale la scena, ma la scena non la puoi rappresentare, rappresenti una scena parziale, non ci dimentichiamo che rappresentare una scena in modo parziale potrebbe essere fonte anche di speculazione, perché tu fai vedere un pezzo, dai un'interpretazione diversa, ma fammi vedere tutto il contesto e tutta la scena, quindi, ma questo però è un pensiero che va al di là, però dal punto di vista poco fisico c'è uno stress a guardare un filmato in verticale, già a quello stress si aggiunge poi lo stress dello short, cioè un filmato breve, dura poco, finisce, non ti genera un'emozione che cresce, dura, e ti dà un'informazione, qualcosa che poi ti rimane, no, deve essere una cosa che ti piace perché magari è una stronzata, se ne vedono di ogni, anche di scene violente, molto violente, vengono spesso rappresentate scene violente, anche nella comicità magari di un incidente, di una persona che cade, eccetera, viene comunque rappresentata violenza, oppure stupidaggini iperripetitive, poi se tu ti fermi a guardare una cosa, un certo tipo di contesto, poi dopo ti arriveranno mille di quelle cose identiche spiccicate, perché sanno che a te piace vedere quella roba là, e quindi te ne arrivano tante, c'è un rincoglionimento continuo, costante, che parzializza la tua capacità critica, ed ecco che è pronto il pollo da batteria, bello cotto, cucinato, questo è il problema, la necessità di avere la costante attenzione parziale, non viene soltanto da una questione politica, cioè per rincoglionirci tutti, e quindi poi propinare qualsiasi cosa, perché nel momento in cui noi perdiamo il senso critico, la bellezza, ecco, la bellezza di vedere una bella immagine, con le proporzioni corrette, no, e con una emotività, cioè che, un'immagine che io vedo, o è informativa, come quella nostra, noi è un'immagine informativa, noi informiamo, non facciamo spettacolo, oppure se è uno spettacolo, di qualsiasi tipo esso sia, deve rappresentare un'emozione, l'emozione viene data da un lungometraggio, o comunque da un cortometraggio, che duri almeno 10-15 minuti, se voglio esprimermi, anche un brano musicale, guarda, anche un brano musicale, un bel video musicale, di 4 minuti, 5 minuti, quello già dà un'emozione, un bel brano musicale, una canzone, una poesia, o anche belle note, no, la musica in generale, poi si è associata addirittura a un concetto poetico, ancora meglio, però, bravi registi hanno creato dei video meravigliosi, durano 4-5 minuti, qualcuno anche di più, sono ovviamente nei formati corretti, e io posso goderne, ma tutto questo, questi grill, fatti apposta, no, per, tu continui, alla fine sei rincoglionito, dici, vabbè, ok, aspetta, mi sento intronato, non ti, cioè, non pensi ad altro, però questo serve a rafforzare il potere dei cosiddetti social media, dei cosiddetti big tech, che oggi detengono sostanzialmente non soltanto un potere economico, ma anche proprio un potere sociale, perché non solo detengono anche le macchine, i server, che sono stati inseriti addirittura nel sistema statale, pubblico, di gestione degli esseri umani, e anche della politica, e anche delle elezioni, direi. Io sono stato uno, quando lavoravo in McEnerickson, e avevo come cliente di agenzia pubblicitaria TINIT, abbiamo portato il primo provider di posta elettronica, da 30 mila abbonati a 4 milioni in un anno, e quindi abbiamo spiegato agli italiani come si settava un modem, che cos'era internet, eccetera, ed ero francamente convinto, quando poi è comparso Facebook, che questo fosse una novità meravigliosa, eccetera, poi pian piano nel tempo mi sono francamente ravveduto, perché vedo che questo processo è purtroppo inarrestabile, questo processo verso la costante attenzione parziale, e addirittura ha voluto, quando addirittura all'associazione degli investitori pubblicitari, che si chiama UPA, hanno detto alle agenzie di pubblicità, guardate che adesso voi dovete inventarci, creare dei video, delle pubblicità da mettere su YouTube, dove però nei primi 4 secondi ci deve essere il gancio, la creatività, quello che inchioda la gente a restare e non andare oltre. Allora voi capite che in 4 secondi cosa vuoi fare, è praticamente impossibile, quindi tutto mira a questa frammentazione costante e quindi secondo me stiamo andando a un processo di triturazione totale, dove poi contano, man mano che si è andato avanti nel tempo, si è anche scoperto che tutti questi click, questi contatti virtuali, poi sono nati i bot, sono nati i computer che raccolgono, ti mandano tanti contatti che non sono veri, insomma sta venendo fuori un fritto misto anche nel mondo della pubblicità online che è molto e molto molto complicato e quindi io posso dire che sarà che sto diventando vecchio, però mi sembra che si sta buttando via il bambino con l'acqua del bagno perché nel frattempo la qualità complessiva si degrada e si degrada tutto, si degrada il gusto, l'hai detto prima, si degrada la musica, si degrada i contenuti perché non c'è nemmeno tempo di fruirli. Posso solo dire uno spunto che c'è nella sindrome del criceto che trovate anche sullo store di Radio Radio, il mio ultimo saggio in seconda edizione, in cui c'è questo psicologo che spiega che ogni volta che noi rispondiamo a un alert, a un segnale, a una posta che è arrivata, a un messaggio che è arrivato, proviamo, riceviamo uno schizzo di dopamina nel cervello che è come un piccolo orgasmo. Alla fine della giornata ne abbiamo ricevuti 10.000 quindi siamo completamente drogati da questi schizzi di dopamina ma non abbiamo combinato assolutamente niente perché ci siamo continuamente distratti. Quindi queste sono le spiegazioni tecniche per cui purtroppo come si fa a recuperare degli spazi? Il problema è molto, molto grave anche perché gli anziani sono un po' più abituati a dilatarsi questi spazi ma i giovani proprio oramai vivono, saltellano da un contenuto all'altro e proprio ieri guarda concludo parlavo con questo professore che ho conosciuto che è il professor Mangia che è titolare diritto costituzionale alla statale e dicevamo insieme che il degrado del popolo, il degrado della cultura popolare complessiva corrisponde anche a un degrado dell'elite perché queste elite abituate a avere oramai degli schiavi si adagiano su se stesse e quindi poi io spero che parliamo della Kamala Harris adesso i giornali dicono tutti pazzi per Kamala ma come si fa ad essere pazzi per una vita di questa portata? E quindi evidentemente anche loro quelli che la propongono pensano che il degrado in cui siamo vada benissimo e quindi siamo veramente alla fine di un impero Rampini che rimane pur essendo molto progressista un giornalista estremamente intelligente tempo fa aveva detto guardate che gli imperi quando si capisce che un impero sta finendo o un'epoca sta finendo quando si avverte il totale degrado dei costumi eccoci qua